presentato un corso di formazione in collaborazione con il comitato tecnico scientifico della provincia di Pescara secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo delle attività formative per il sistema integrato di educazione e istruzione della regione Abruzzo sottolinea Gianni Santilli, assessore alla pubblica istruzione del comune di Pescara i bisogni formativi emersi da uno studio condotto che nel giugno scorso ha portato a significativi rilievi confluiti nel progetto rivolto agli educatori dei servizi educativi e docenti delle scuole dell'infanzia statali e paritarie dal titolo verso un sistema integrato 06 approcci pratiche, curriculum verticale, orizzontale, ricercazione e tecniche innovative l'iscrizione all'unità formativa è gratuita e nella prima fase le domande del corso possono essere accettate fino alle ore 17 di giovedì 30 marzo 2023 accedendo alla piattaforma telematica dedicata sul sito del comune di Pescara e la prima fase le domande del corso di Pescara